Le città vivono di nuovo slancio d'energia grazie alla diffusione dello skateboarding, una pratica sportiva che nel tempo si è trasformata in un vero e proprio stile di vita. Nata in California negli anni 60, tale disciplina è diventata una moda tra i giovani, così come Captur è diventato un SUV urbano di tendenza, lanciando il suo Stile Streets nel 2013 con le Zip Collection, il cassetto Easy Life, il B-Style e tanto altro. Surfare sulle quattro ruote, farsi strada negli spazi urbani, scivolare senza sforzo tra gli eventi quotidiani? Questo fa Captur, un'icona che attira gli sguardi e che è pronta a catturare anche il cuore, con le sue acrobazie energetiche ai massimi livelli. Unico modello Renault ad offrire la gamma ibrida e-tech al completo, già lanciato nella versione ricaricabile a fine 2020, oggi Captur completa l'offerta con la versione full hybrid, una vera rivoluzione nel mondo ibrido. Un'opera ingegneristica straordinaria che cattura l'energia, permettendo all'auto di circolare per l'80% del tempo in elettrico in città, senza doversi mai ricaricare, riducendo i consumi di carburante e limitando le emissioni di CO2. Sono due le scelte ibride ad alta elettrificazione e-tech su Captur. Il plug-in hybrid, che ricaricando la batteria, consente di muoversi liberamente in modalità elettrica, senza rimanere per strada, grazie anche alla doppia alimentazione, è il full hybrid, che si ricarica automaticamente grazie al recupero energetico, ideale per vivere la città quasi sempre in modalità green, senza sforzo. Sprigiona la tua energia con nuovo Renault Captur e-tech 145. Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie a tutti!